Ti chiama Scurati, il direttore artistico era, ti chiama per andare come ossa, tu accetti, decidete una data e poi ti viene detto non ci puoi venire al festival di Ravello, non sei il benvenuto. Scurati si dimette perché dice non possono sindacare le mie scelte e tu dici non mi ha voluto De Luca, il presidente della regione Campania. La prima domanda è se sei sicuro di questo, la seconda è che gli hai fatto a De Luca. Chiariamoci una volta per tutti. Sicurissimo, loro hanno tirato giù un circo di risposte. Prima il comitato di indirizzo non aveva approvato i nomi. Non era stato informato, poi non c'era congruenza. Non c'era congruenza con i principi del festival, poi non si invitano scrittori, falso. Poi stessa casa editrice, me e Antonio Scurati, c'è Bonpiani. E poi ti volevi andare a fare una vacanza gratis. Pensa che poi è una cosa terribile, per cui pretendere... Io andavo gratis, non avevo un gettone, che è ingiusto perché in realtà i festival si lavora. Tu devi preparare una serata, è un lavoro importante, devi tenere... Però tu saresti andato gratis. Sì, quindi lui non ha avuto la scusa. De Luca ovviamente ha una gestione da satrapo, per cui se critichi la sua politica, in qualche modo lui ha necessità di mandare un messaggio. Ma la cattiva figura, la terribile figura che ha fatto il festival di Ravello, agli occhi di chi è lontano dalla dimensione campana, può sembrare persino dannoso. Cioè conveniva fargli fare l'incontro, nessuno se ne accorgeva, se non le persone non presenti. E allora perché no? Perché ai suoi il messaggio è chiaro. Il messaggio che lui sta dando agli uomini che ha piazzato i festival, ai consulenti che ha messo ovunque... Comando io. Non solo, è tutto deciso. Cioè non potete fare testa vostra. Cioè qua ci ricordiamo di tutto quello che ci viene detto. Però tu dici, all'esterno può sembrare un'altra cosa, la realtà è questa qui. Allora però andiamoci un attimo all'esterno. De Luca è un governatore, il governatore della campagna, presidente di regione, perché poi governatore è la parola sbagliata, anche se la usiamo tutti. Però partiene ad un partito, partiene al Partito Democratico. Ti hanno cercato, hanno alzato il telefono. Dimmi sì o no. C'è stato Enrico Letta che è intervenuto sulla vicenda, dicendo che appunto che io e Antonio Scurati saremmo stati invitati a tutte le feste del PD. Quindi come dire, ha risposto alla posizione di De Luca, dicendo al contrario, gli spazi che io coordino come segretario sono aperti a loro. Ti ha fatto piacere? Beh, è stato quantomeno una risposta della politica, che invece, soprattutto sul piano campano, candidati a sindaci, candidati occorrenti... No, Antonio Bassolino. Antonio Bassolino, come dire, ha risposto. E c'è stato Enzo Del Rico, il direttore del Corriere del Mezzogiorno, che ha deciso di non partecipare alla fiera del Libro di Napoli. Insomma, qualche voce. Qualche voce, qualche voce. Sparuta voce. Andiamo qualche minuto in...